Sabato 30 maggio, in diretta su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre, dalla Cattedrale di San Giustino, la Messa Crismale, evento espressivo dell'unità della Chiesa Diocesana intorno al Vescovo. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Rete 8, canale 10 ed in streaming su www.rete8.it Grazie a tutti.